Grazie Dai! Si, come! Oh! Vissa! Vissa! Dai, dai! Oh, ma arriva! Oh, ma arriva! Grazie a tutti. Ok, bravissimi. Guarda il bagno, guarda il bagno, guarda il bagno, guarda il bagno. Vai su. Vada a girare. Grazie. Bravo. Grazie. 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 Buona, bravo Antonio. Guardala, guardala. Ecco lo che c'è. Guarda bene, duramente. Guarda bene, duramente. Dai che si andrà, a teglia. Guarda ne fanno in alto in questo quadro. Dai bampo. Dai bravo. Guarda bene, vai da sotto. Guarda bene, guarda il bagno. Guarda in alto. Guarda bene. Spera! fuori la palla troppi i paletti sul posto eccolo che c'è la nostra nostra bianca ancora la palla in mano Francesco e' il paletti e' il paletti ecco va buona buona aiuta 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 via vai aiuta vai bravo 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 dai fatemi venere bravo 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 Sì, su, su! Sì, su! Grazie a tutti 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 Indietro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti